Un seminario per dare una proiezione del futuro del turismo. È quello che si è svolto all'Auditorium Palazzo delle Esposizioni a Lucca. Per il terzo appuntamento, con la tavola rotonda, il turismo incontra il futuro, le start-up come nuove opportunità di autoimpiego, organizzato dalla Fondazione Campus. Un incontro che rappresenta l'anteprima dell'evento Career Days, in programma il 12 e 13 novembre. In questo seminario di apertura dell'evento incontreremo gli start-upper. Parleremo quindi di processi di open innovation. Cercheremo di capire da questi giovani o comunque queste persone che hanno avuto successo come start-upper come fare oggi per lanciare un progetto che sia competitivo sul mercato e che abbia garanzie di successo. Credo che sia una bella opportunità per gli studenti di Fondazione Campus che si stanno preparando anche a sostenere gli stage con le aziende che arriveranno a Lucca nei prossimi giorni per incontrarli. Credo molto che queste occasioni siano delle occasioni interessanti per tutti i giovani proprio in un mondo e in un momento anche storico in cui il tema della forte evoluzione del comparto è sotto gli occhi di tutti. Il movimento delle start-up anche nel nostro paese non rappresenta solo occasioni di investimento ma anche nuove e importanti opportunità di autoimprenditorialità e di impiego per i giovani. Ringrazio la Fondazione Campus per questo invito. Oggi credo sia un momento molto importante perché riuscire a creare connessione tra istruzione e impresa e far comprendere ai giovani cosa vuol dire che creare nuove imprese sia fondamentale per permettere degli strumenti per poi evolvere e prendere scelte in maniera più ragionata.